Buonasera amici sportivi di Teleirida e bentornati all'appuntamento con il T-Sport del venerdì, il nostro focus dedicato al mondo sportivo della regione toscana. Ogni volta all'interno di questo spazio portiamo una nuova realtà, dei nuovi ospiti per parlare di una nuova disciplina sportiva. Oggi torniamo a parlare di rugby e lo facciamo in compagnia degli amici dei Cavalieri Prato Sesto. Vado subito a dare il benvenuto, visto che torna a trovarci, al presidente Francesco Fusi, che torna proprio nei nostri studi per T-Sport. Ciao, buonasera a tutti. E allora, al fianco del presidente diamo invece il benvenuto per la prima volta, Enrico Romei, che è qua in duplice veste, perché dicevamo coach per quanto riguarda l'attività senior, quindi proprio dei Cavalieri, mentre sei direttore educativo per quanto riguarda l'attività giovanile del GISPI. Sì, questa è la mia duplice attività. Corretto. Correttissimo. Per Cavalieri Union svolgo il ruolo di assistente tecnico a coach Carlo Pratichetti, gli do una mano con un'attività di reparto, come diciamo in gergo tecnico. Qual è il tuo reparto? Il mio reparto sono i tre quarti, quindi giocatori apparentemente veloci, o comunque i più veloci del lotto, mentre per quanto riguarda GISPI Rugby appunto svolgo questa mansione di direttore educativo che è un misto tra un'area manageriale che coinvolge se l'area strutturale, quindi gestire le risorse interne al club, umane, appunto luoghi e economiche, ma anche che cerca di dare una visione educativa unitaria al club, quindi a tutti gli attori che poi confluiscono nel nostro quotidiano, genitori, insegnanti, bambini, ma non solo, anche le persone che vengono a contatto con la nostra realtà. Una filosofia, una linea comune per tutta la società. Abbiamo parlato di coach Carlo Pratichetti, io riparto proprio dalle parole di coach Carlo Pratichetti al termine dell'ultima gara disputata proprio dai Cavalieri contro il Rugby Perugia. È arrivata una sconfitta che per la verità non è stata particolarmente dolorosa e è stata appunto registrata nell'ultima giornata di campionato. Al termine della partita Pratichetti ha detto in generale il giudizio della stagione è positivo, abbiamo affrontato un anno angonistico in cui i giovani atleti della Rosa sono stati protagonisti di un progressivo miglioramento e regalandoci anche soddisfazioni inaspettate, ci prepariamo ad affrontare il prossimo campionato da protagonisti. Queste le parole del coach della prima squadra dei Cavalieri. Io voglio sapere se il presidente condivide le parole del suo coach e insomma che stagione è stata? Vediamo anche la classifica intanto di superpressione grazie al nostro regista Emanuele Bartolini. Le condivido in pieno, la stagione è stata direi molto positiva anche al di là dell'aspettativa iniziale. Noi eravamo partiti con l'idea di ottenere una salvezza molto tranquilla un gruppo che ha un'età media, è un under 23 fondamentalmente. Poi via via diciamo che i ragazzi sono cresciuti veramente molto bene grazie al lavoro fatto ovviamente dallo staff tecnico e direi che è andata al di là delle più rose aspettative. Siamo arrivati a lottare fino all'ultima partita per arrivare a barrage promozione, ci ha sfuggito veramente per un soffio. e la partita di Perugia siamo scesi in campo già sapendo il risultato della partita di Tania. Che è la seconda classifica, la vostra diretta di Valle per intendersi. Eccola qua la classifica. Sì, loro avevano giocato prima di noi per un, diciamo, forse non era il caso di fargli giocare prima però non scendiamo in polemiche che è inutile. Ultimamente all'ultima giornata in genere si giocano simultaneamente. Sì, comunque insomma, al di là di questo, insomma, sono veramente qui squiglie. Noi abbiamo fatto, credo, un campionato, una stagione veramente da otto come ha detto anche Carlo, perché i ragazzi hanno fatto miglioramenti incredibili e abbiamo gettato, credo, le basi per poter partire con serenità per la prossima stagione. Insomma, stiamo già lavorando per partire serenamente l'anno prossimo e continuare su quello che è il nostro progetto. Quindi un gruppo di ragazzi senza altro giovani però che hanno dimostrato che in campo ci sanno stare e anche molto bene. Stupendo, fra l'altro, perché noi ci siamo incontrati un po' di tempo fa e, insomma, le prospettive, gli obiettivi della stagione in un anno comunque particolare, perché era un anno di ripartenza, tra virgolette, erano sicuramente più modeste, mi viene da dire, come prospettive per la stagione. Invece poi è arrivato questo bel terzo posto. Eh sì, sì. Neanche il presidente si aspettava così tanto. Ma sinceramente all'inizio stagione no. Però devo dare atto ai ragazzi che hanno fatto un lavoro, ai ragazzi, allo staff che hanno fatto un lavoro veramente grecio. Quindi di questo gliene va dato atto e sono stati eccezionali. Vado anche da Enrico, perché, insomma, hai un occhio di riguardo, ci hai detto per i tre quarti, ovviamente, perché sono i tuoi ragazzi. Però, insomma, hai anche, ovviamente, sotto mano un po' tutto il gruppo, lo vedi lavorare. Quindi, come è migliorato e perché è migliorato così tanto questo gruppo? Mi immagino ci siano dei valori all'interno della vostra rosa. Ma, insomma, qual è il lavoro che poi avete fatto voi? Ma, sicuramente, la prima qualità di questi ragazzi è di essere molto dediti al lavoro. Il nostro impianto, diciamo, di squadra è fatto sostanzialmente da ragazzi che lo fanno per passione. C'è qualche rimborsato, non è una squadra professionista, quindi il tasso di adesione è strategico in una stagione, perché se i ragazzi aderiscono in toto alla proposta quantitativa e qualitativa, poi la qualità del collettivo si innalza. Se invece non fanno questo, una parte del gruppo non fa questo, è chiaro che allineare la performance di un gruppo così ampio diventa molto più complesso. Quindi questo sicuramente è stato un valore che i ragazzi hanno messo a livello individuale in un sistema collettivo. Quindi, dopo un iniziale momento di difficoltà, perché essendo giovani ci sono squadre appunto come Benevento, ricordo la prima trasferta, piuttosto che Alghero, squadre che hanno costruito magari una rosa comprando atleti d'alte realtà, una squadra giovane può impattare. Però poi, nel lungo termine, la nostra qualità interna, anche a livello di adesione collettiva, ha sicuramente pagato, in termini di performance. Quindi sia morale, capacità di essere resiliente, resistere in partite difficili o di venire fuori all'ultimo, ma anche proprio nei volumi di lavoro. Quindi abbiamo avuto ragazzi che sono veramente migliorati tanto perché hanno lavorato tanto e con qualità. Vi chiedo a entrambi, parto dal Presidente solo per un fatto di carica, giustamente, però il momento più bello e il momento più brutto di questa stagione, perché comunque siamo arrivati in fondo, è il momento di trarre anche un po' di bilancio. Qual è stata la partita o il momento della stagione in cui, insomma, si è potuto sorridere? Il momento più brutto direi la sconfitta di Firenze. Il derby. Il derby, sì. Mi dice che sono arrivati ottavi nel campionato di Serie A con la loro seconda squadra. Sì, lì c'è stato un momento in cui, insomma, è stato un momento un attimino di... Defaillance. Defaillance. Chiamiamola così, poi insomma, non lo era, però c'è stato un momento di riflessione. Il momento più bello ce ne sono stati diversi, sinceramente, però la trasferta di Catania, devo dire, è stato uno di quelli più belli. Anche perché poi sono trasferte importanti, difficili, Enrico, poi magari ne parliamo anche di queste trasferte che sono molto impegnative, immagino, per dei ragazzi che, come hai detto prima, non sono professionisti. Qualcuno fa anche la notte e viene direttamente alla... La notte al lavoro, eh! La notte al lavoro e poi viene a fare la trasferta, quindi l'approccio è effettivamente... Può essere invasivo il fatto di avere una logistica molto difficoltosa o con più spostamento, addirittura come nel caso di Catania o di Alghero, un traghetto da prendere su un viaggio che dura svariate ore. Ma personalmente, io parto prima, sono un ottimista, quindi parto prima dal momento più bello. Devo dire che la vittoria proprio ad Alghero è stata una vittoria determinante, perché siamo andati in un campo molto difficile con una squadra che ha tanti giocatori esperti che provengono anche da altre realtà e non venivamo da un periodo facile, abbiamo vinto inaspettatamente ma abbiamo vinto meritatamente perché nei contenuti del gioco siamo stati molto più confidenti, molto più efficaci rispetto appunto ai sardi. E da lì c'è stata una presa di coscienza dei nostri mezzi, i ragazzi complici, sia la vittoria, sia probabilmente una conferma della loro maturità, hanno trovato la continuità e nel vincere e nel performare e nel fare un gioco di qualità, perché non sempre la performance poi è legata alla vittoria e alla sconfitta. Quindi per noi è importante costruire una performance, siamo sicuri che poi i risultati arriveranno. Il punto più brutto, ma lui dice Firenze, perché comunque è un derby, a livello di pancia siamo tutti un po' presi, ma io a Benevento quando abbiamo perso all'inizio anno ho avuto un po' di paura, però ho capito che forse avevamo saltato dei tasselli all'interno probabilmente della periodizzazione del lavoro e quindi ho detto speriamo di non doverseli, come dire, questi pezzettini che abbiamo lasciato forse durante un presidio e di non scontarli successivamente. Un lavoro che abbiamo detto è andato particolarmente bene nella programmazione invece poi, quindi quei tasselli non sono mancati alla fine, e invece la programmazione del prossimo anno da cosa riparte? Dalla conferma del coach, dalla conferma degli atleti? Carlo è già stato confermato per i prossimi due anni, una conferma è avvenuta a gennaio, quindi quella è già un punto stabile così come Enrico. Per quanto riguarda i ragazzi, l'intenzione è quella ovviamente di confermare il blocco che ha disputato questo campionato, non dipende solo da noi, però la nostra intenzione è assolutamente quella. C'è da lavorare su un paio di ruoli che abbiamo individuato e stiamo già cercando di capire... Non si fanno nomi, però è presto, ovviamente. Però la nostra intenzione è quella di confermare il blocco graniti che ha disputato questo campionato senza fare assolutamente gli stravolgimenti che sarebbe da stupidi in questo momento e andare a intervenire soltanto in queste massimo due ruoli che ci sembrano un attimino più deboli tutto l'anno. Pescando qualche veterano, almeno questo lo possiamo dire, pescando qualche veterano oppure continuando sulla linea verde? No, continuando sulla linea verde, magari ragazzi che abbiano già un minimo di esperienza, però che riescano in questa maniera a inserirsi già in un gruppo di diverse giovani. Siamo convinti che se inserendo persone fuori contesto non otterremo lo stesso risultato. Enrico? Sentivo che stavi partendo. Stavi aggredendo la domanda? No, perché noi siamo veramente giovani. Quando parli con altre realtà ti dicono sì, noi siamo giovani. Poi guardi le liste gare, sì, magari un 30% o 40% della rosa è under 21, però poi hanno anche uno zoccolo duro di under 25 o under 30, che nel gioco di regno, nel gioco di lotta collettiva, un po' conta. Certo. C'è per l'esperienza proprio di campo, ma anche nell'aspetto della leadership e della personalità. Perché un ragazzo è diverso da un uomo e noi latini maturiamo tardi, quindi un 18enne è estremamente diverso da un trentenne. Invece noi veramente abbiamo un 80% di under 21, cioè su una rosa gara di 22-23 giocatori, noi abbiamo spesso 16-16 giocatori che stanno dai 22 anni in giù. E quindi per noi inserire qualcuno di giovane vuol dire magari inserire un ragazzo che ha 23-24 anni, ma che può aver maturato già dell'esperienza a livello di eccellenza o di Serie A e quindi portare questo suo vissuto all'interno di un contesto realmente giovane. Quando si prende qualcuno da fuori e si fa un investimento, perché poi non essendo la nostra rosa una rosa professionistica, per la società è un investimento vero. Non si deve guardare solo le qualità del giocatore, ma i primi sono quelle della persona, perché il suo vissuto deve far crescere tutti gli altri. Certo, certo. Non tanto nel gioco, quanto nel prendere abitudini e nel prendere valore nel quotidiano. Quindi come mi alleno, perché mi alleno in un certo modo. Il giusto fit, no? Bravissimo, bravissimo. Per noi diventa strategico scegliere la persona giusta, non prendere solo un buon giocatore, ma prendere una grande persona e poi magari un giocatore. Anche perché poi c'è un livello di qualità in questi giovani da tenere alto, Presidente, perché ricordiamo Andrea Pancini, Ion Neculai e insomma tanti altri ragazzi della posta, Mirko Goggioli, Lorenzo Pani, Gianmarco Magni, Sginolfi, William, quindi insomma tanti ragazzi che hanno indossato, indosseranno, forse in un futuro vedremo anche con la nazionale maggiore, chissà, la maglia azzurra. Sì, effettivamente ci sono stati anche veramente degli ottimi risultati per quanto riguarda le nostre junior. Questi ragazzi che ha nominato sono tutti stati invocati o in National Under 18 o in National Under 17. E quindi anche a livello di ragazzi, insomma, i risultati sono stati veramente positivi. Molti di questi ragazzi, ora a parte Ion, Matteo e Pancini, che credo quasi sicuramente andranno a Remedello in Accademia, glielo auguro insomma. C'è uno zoccolo di una decina di ragazzi che salirà dall'Under 18 e farà parte della senior, insomma, della rosa della Serie A, che appunto anche loro sono veramente, veramente interessanti. Molti di loro, vedi Rudalli, vedi altri ragazzi, hanno già esordito durante la stagione, quindi hanno già fatto un minimo di esperienza che gli consentirà comunque di inserirsi gradualmente nella prossima stagione. Ci sono veramente tanti ragazzi interessanti che possono dire la loro, insomma. Il lavoro fatto è veramente buono. Allora, siamo in chiusura. In un flash però, insomma, facciamo anche un giochino. Lo so che non ci interessa più di tanto, perché ormai, insomma, la guardiamo là fuori, la Serie A. Ma chi lo vince in questo campionato? Chi vince lo scontro play-off? Chi vince la finale? Chi sarà la squadra alla fine a prevalere? Una preferenza per ciascuno? Non lo so. Io personalmente per amicizio che faccio il tifo per la Capitolina. Però è un fatto solo di tifo. Esatto. Per me è colorno. Colorno, colorno, colorno. Va bene, saremo a vedere. Intanto ci abbiamo le registrazioni, quindi rimane tutto nei nostri archivi. Interno. Tutto da noi. Poi, fra l'altro, insomma, so Enrico che dovremmo dare un occhio anche ai risultati elettorali, perché ora non vogliamo fare politica. Però, insomma, partecipi alle amministrative di Prato con una lista civica dedicata proprio al mondo sportivo. Sì, lo sport per Prato e quindi è una lista particolare perché ha coinvolto una serie di profili del mondo sportivo pratese, di molteplici discipline e si baserà esclusivamente o principalmente su le competenze legate all'area sportiva. Quindi, strutture, sviluppo, sport per tutti, tutte quelle che sono le dominanti che riguardano un territorio. E speriamo, come dire, io mi butto nella mischia, no? Va bene. Da buon regbista porto avanti i miei valori e cerco di farlo nel quotidiano e condividendo con gli altri le mie idee e le mie competenze. L'importante è che la mischia sia avanzante. Sempre avanzante. Benissimo, siamo in chiusura. Io ringrazio gli ospiti dei Cavalieri Union Prato VI per essere stati con noi, con un ringraziamento al presidente Fusi e con il direttore educativo Enrico Romei e coach dei tre quarti. Noi ovviamente torneremo a parlare dei rugby sempre qua all'interno dell'appuntamento di T-Sport. Non perdetevi l'appuntamento con la nostra trasmissione tutti i venerdì alle 18.55. Ciao! Noi ovviamente non perdetevi l'appuntamento con la nostra trasmissione. Grazie a tutti.